Allora come potete vedere ho sicuramente letto il libro e devo dire è scritto piuttosto bene e interessantissimo e c'è proprio tutta la storia dagli albori, cioè tu sei partito proprio dal fatto che gli stessi caldei dettero il nome al pianeta ed era il dio della guerra perché era rosso sangue e io ti ho fatto notare una cosa curiosa che è il fatto che sia rosso sangue perché c'è molto ferro, ossido e contemporaneamente è proprio rosso perché il sangue contiene ferro e quindi alla fine in qualche modo avevano centrato qualche cosa nel dare questo nome del dio della guerra. Quindi quello che ho visto è che essenzialmente Marte oggi se ne parla tantissimo ma anche nell'ottocento era veramente al centro dell'attenzione e forse è stato il secolo in cui proprio c'era più studi sia perché la tecnica lo consentiva e quindi era possibile cominciare col vedere se sulla superficie c'era qualcosa con tutte le ipotesi possibili e quindi il fatto che c'era Schiapparelli che fu uno dei primi che incominciò a fare ipotesi sulla questione della vita possibile su Marte come oggi ancora si pensa e si cerca di capire se c'è stata o se c'è tuttora. Quindi in qualche modo io ho un collegamento con Schiapparelli come mi hai fatto appunto notare perché tra l'altro Schiapparelli era nato a Savigliano se non ero, vero? In provincia di Cuneo, io sono di Cuneo e questa cosa mi ha colpito ovviamente un po'. Ovviamente lavoro nello stesso osservatorio, quindi c'è anche questo tipo di collegamento. Schiapparelli ovviamente è stato un grandissimo personaggio, ha dato un contributo molto grande allo studio insieme a appunto altrettanto Lovell, no? Quindi, ecco, tra l'altro io sono stato, come ti ho raccontato, all'osservatorio di appunto Lovell questa estate scorsa e c'è un aneddoto che vorrei un attimo raccontare. Quando sono stato, alla sera, avevo notato com'era diverso il cielo della città quanto fosse buio rispetto al cielo nostro. E mi sono stupito perché in fondo Flagstaff è una città molto grande. Quando gliel'ho chiesto com'era possibile, loro mi hanno detto che quell'osservatorio è stato creato sulla Mars Hill, no? Prima della costruzione della città e quindi quando hanno cominciato a costruire la città hanno fatto in modo di mantenere tutta l'illuminazione avendo cura dell'osservatorio. Ma era un cambiamento incredibile. Io quando guardo il cielo da qui e quello che era là era veramente un cielo come se quasi non ci fosse la città. Era fantastico, fantastico, sì? Ecco, cosa ti posso chiedere? Stavo cercando di pormi la questione. Dunque, parlare di Schiapparelli, come sai, noi abbiamo la cupola ancora che contiene lo Schiapparelli piccolo, quello da 18 centimetri, 20, che è un vero gioiello. E poi abbiamo anche rimesso a posto, anche se non è funzionale, lo Schiapparelli da 50 centimetri di cui tu hai curato, credo, la presentazione quando è stato messo nel Museo della Scienza. Se vuoi parlare un momento di quello. Ma io direi che Schiapparelli è un punto di riferimento per Marte perché dopo le fantasticherie dei secoli precedenti, lui ovviamente ha cominciato a fare la scienza di Marte e anche la scienza planetaria perché ha cambiato il modo con il quale si guardavano i pianeti, non più soltanto dal punto di vista delle orbite, ma ha concentrato l'attenzione sulla natura del pianeta stesso. Quindi cambiando l'approccio all'esplorazione, allo studio dei pianeti stessi. E lui ha avuto la fortuna, oltre che anche la fantasia per certi aspetti, nella sua osservazione del 1877 di vedere, come sappiamo, i famosi canali. Canali che ovviamente erano frutto dell'interpretazione più che dell'osservazione scientifica, però questi famosi canali hanno suggestionato soprattutto quest'americano che ha costruito in Arizona l'osservatorio, ha ingaggiato i migliori astronomi del momento perché si concentrassero sullo studio del pianeta rosso perché lui riteneva che effettivamente questi canali non fossero soltanto dei processi naturali ma fossero il frutto di interventi artificiali e quindi di esseri intelligenti. E questo grazie alla confusione nata dalla traduzione del termine canale che appunto tradotto in inglese significava appunto costruzione artificiale. E a questo termine, questo per dire quanto le parole possono essere importanti e talvolta fatali, come in questo caso, lui ha immaginato tutta una storia bellissima perché non solo ha descritto Marte come un luogo dove questi esseri erano molto più intelligenti dei terrestri perché erano costretti a vivere nel sottosuolo e uscivano in superficie a seconda delle stagioni per coltivare il terreno tanto che queste immagini, queste macchie verdi che si intravedevano erano il frutto appunto delle coltivazioni marziane. I canali non erano altro che grandi infrastrutture, dei grandi bacini che servivano a portare l'acqua dall'iscioglimento delle calotte polari verso le aree appunto coltivate. E poi i marziani, che così nascevano, si rintanavano nel sottosuolo aspettando la stagione favorevole. Quindi tutto questo si è mischiato in una maniera bellissima, devo dire, alla scienza di Schiaparelli e dei suoi successori, sino a dar vita all'esplorazione vera di Marte che allora nasceva assieme alla fantascienza, una fantascienza che era più legata all'aspetto cattivo dei marziani perché quando hanno immaginato la presenza di questi esseri hanno subito dedotto che tutto sommato erano un pericolo, non erano degli esseri buoni. E quindi ne è nato tutto un filone della fantascienza iniziale con Wells che immaginava un pericolo, una popolazione che poteva portare un'invasione della Terra come appunto andava a descrivere. Quindi Schiaparelli è veramente l'iniziatore della scienza e della fantascienza marziana grazie anche ai suoi strumenti. Tu citavi prima questo telescopio portato al Museo della Scienza che tutti possiamo toccare materialmente e che era importante nell'attività di Schiaparelli perché dopo le prime osservazioni del 1877 con questo è andato oltre vedendo come lui diceva una geminazione dei canali quindi un processo dinamico sulla superficie estremamente interessante che andava ad avvalorare quest'idea di Percival Lowell che è anch'esso un personaggio interessantissimo. Ma comunque se pensi a quanto avrebbero dovuto essere grandi dei canali per essere visti da terra, avrebbero dovuto essere veramente centinaia e centinaia di chilometri immagino per poter dire quello è un canale, devi poterlo vedere a pensarci un attimo sarebbe stata una struttura di una immensità che era una cosa enorme, no? Quindi si poteva già pensare in fondo che i canali non avessero una realtà fisica. Però i marziani erano più intelligenti dei terrestri, come diceva Percival Lowell e quindi erano capaci di fare queste mega strutture sul pianeta che appunto lui vedeva degli esseri marziani ma già prima lo stesso Joel Kos, che all'inizio del Novecento che è uno dei tre padri dell'astronautica aveva addirittura immaginato un modo per dialogare con i potenziali marziani che allora non si chiamavano così, però erano degli esseri che dovevano esserci e che lui immaginava addirittura appunto degli specchi con i quali mandare dei messaggi sperando ovviamente una risposta. Sì, certo, avevo letto questa cosa in un'epoca in cui non esistevano praticamente laser quindi era un'impresa, cioè era una cosa ancora più... Certo, certo. Quindi insomma praticamente in fondo l'Ottocento è stato in pratica dominato da questi due grandi personaggi, no? Possiamo dire così? Certamente, che hanno dato il via appunto alla necessità di esplorarlo più in profondità. Sì, e finché si è continuato a guardarlo con gli strumenti da terra chiaramente non si poteva fare più di tanto e per andare oltre si è ovviamente dovuti andare con le sonde, no? E quindi c'è tutta l'epopea dei primordi, dei lanci spaziali e poi con tutte le missioni che sono state fatte in cui se leggi obiettivamente questi poveri russi ci hanno provato tantissime volte ma gli è andata sempre male sono stati molto fortunati con praticamente Venere perché sono riusciti a far scendere su Venere ma su Marte è sempre stato un disastro per i russi. Eh sì, in effetti se noi guardiamo la popolazione delle sonde che sono state mandate su Marte e qui si vedono le principali vedete una serie notevole di impegni da parte dell'Unione Sovietica prima e poi della Russia e degli Stati Uniti però c'è un questa è un'immagine che non fa parte della sequenza e naturalmente evoca qualcosa potrebbe essere una parte della superficie di Marte che non abbiamo ancora visto ha a che fare più con la fantasia che con la scienza ecco questo grafico vi dà l'idea dei tentativi che sono stati fatti a partire da 1960 quando i sovietici mandavano una prima sonda ecco ma voi vedete quali sono quelli arrivati a destinazione in pratica circa il 40% delle sonde sono fallite tanto che si parla di maledizione marziana naturalmente la fantasia corre subito a definire un fenomeno che in realtà ha a che fare con la tecnologia più che con la fantasia e purtroppo i sovietici sono sempre stati carenti da questo punto di vista sino ad arrivare alle ultime due sonde che loro avevano costruito con grande enfasi negli anni 80 Phobos 1 e 2 per arrivare appunto sulla luna di Phobos addirittura atterrare e compiere delle osservazioni ravvicinate di questo del pianeta e dunque se non ero tu hai conosciuto vero uno dei russi che era a capo del progetto sì all'epoca a capo dell'istituto di fisica cosmica di Mosca c'era Roal Asagdief che è un personaggio estremamente interessante perché lui all'epoca aveva già l'idea di collaborare con gli Stati Uniti nell'esplorazione marziana tanto che era stato anche lo scienziato chiave di una missione umana la prima missione congiunta Stati Uniti e Unione Sovietica nel campo del volo umano quando una Soyuz e un Apollo si erano uniti in orbita e lui era stato lo scienziato che aveva fatto da tramite con gli Stati Uniti era l'epoca di Brzniev, il Cremlino e Nixon alla Casa Bianca e la politica voleva dimostrare attraverso questa missione come c'era un accordo tra le due superpotenze e Asagdief cominciò lì ad avere questa cura dei rapporti Mosca e Washington che ha cercato sempre di più di concretizzare e poi c'era stata un'altra missione che lui soprattutto aveva guidato che riguardava la missione verso Venere nella quale pure gli americani avevano imbarcato un loro strumento ma sarà appunto in questa doppia spedizione di Phobos che lui raggiunge l'ampice della sua notorietà anche perché aveva aperto le porte del Liki agli scienziati dell'Occidente perché era stata una buonissima occasione per presentare il suo piano che politicamente sosteneva per arrivare non solo a esplorare Marte con le sonde ma addirittura arrivare ovviamente all'esplorazione umana seguendo il primo lancio dal Liki di Mosca lui distribuì una piccola brochure dove sintetizzava il suo piano nel quale c'era l'ipotesi già concreta di una missione russa su Marte umana sostenuta da delle astronavi con propulsione nucleare quindi il piano era estremamente elaborato già allora e si erano particolarmente impegnati in questa prospettiva poi sappiamo, siamo negli anni Ottanta la crolla, l'impero comunista, l'impero sovietico e Roald Sagdief ha un'altra vita i suoi rapporti con l'America si fanno talmente intensi che arriva addirittura a sposare la nipote di Eisenhower non solo ma vola negli Stati Uniti e l'Università del Maryland coordina un centro per la collaborazione Stati Uniti e Russia in maniera molto intensa ed è lì che lo vado a ritrovare negli anni Novanta particolarmente impegnato in questo progetto di cooperazione appunto Washington, Mosca in un'area molto più vasta che va al di là ovviamente dei progetti spaziali Sai che ha proprio detto tu hai citato quella appunto missione congiunta americani-russi in cui una capsula Apollo si agganciò con una Soyuz credo mi ricordo di aver letto che quando gli americani tornarono indietro dopo aver completato tutto si dimenticarono di attivare il computer che avrebbe dovuto aprire il paracadute e a un certo momento mentre scendevano e scendevano a un certo momento si resero conto che non si apriva e dovettero aprirlo a mano e l'impatto perché fu proprio negli ultimi chilometri cioè stavano davvero per andare a schiantarsi l'impatto fu talmente forte che dovettero stare un mese in ospedale perché cioè manco un pelo che quella missione non finisse male incredibile ma una sciocchezza simile nello spazio ti costa la vita ebbè l'imprevisto nello spazio è sempre inagguato ma lì non era un imprevisto era proprio la testa che mancava ecco quindi hai fatto vedere la persona questo è SACDF appunto premiato nell'Unione Sovietica ma poi altrettanto negli Stati Uniti sì ecco quello che io invidio di ciò che tu fai è proprio questo cioè tu sei potuto andare nei posti seguire le missioni parlare con le persone che in primo cioè che sono quelle che hanno in mano la missione tu hai parlato con con Von Braun con Armstrong no? solo per dirne due con Elon Musk e questo è fantastico per me cioè è un mestiere bellissimo il tuo se posso dirlo proprio una cosa che ti permette di essere in prima linea e di conoscere le persone che stanno facendo la storia possiamo dire così quindi tu essenzialmente hai visto anche a mi hai appunto raccontato che eri presente quando Spirit è sceso su appunto Marte con la famosa con gli airbag e in questo caso hai conosciuto praticamente l'inventore della tecnica vero? sì che tra l'altro è figlio di due italiani e quindi un italiano di fatto lo vediamo qui Tom Rivellini che lui è entrato al JPL nell'ufficio studi subito dopo l'università lui era figlio di due radiologi emigrati a Chicago e mi raccontava che i genitori lo portavano ad estate in vacanze in Italia ed era stato così affascinato dalle Ferrari che gli avevano generato la voglia di essere sempre alla frontiera della tecnologia e per lui la frontiera doveva essere sicuramente e soltanto lo spazio per cui si appassionò talmente a questa frontiera che riuscì ad andare al JPL e lì maturò l'idea degli airbag famosi che diedero il via agli sbarchi marziani dei Mars Pathfinder prima e poi di Spirit Opportunity nel 2004 e lui oggi è alla guida dei sistemi di sbarco su Marte che naturalmente poi si sono evoluti a seconda delle necessità del veicolo da portare che naturalmente gli airbag per esempio non possono funzionare non potevano funzionare per quanto riguarda Curiosity date le dimensioni il peso è un peso troppo grande diverso al lato pratico hanno visto che non c'è modo di fare di airbag senza che si rompano perché se non sbaglio pesa circa mille chili e quando c'è un impatto di una massa simile non riescono a fare airbag capaci di reggere un impatto così non solo ma questo Curiosity che è grande come un SUV aveva la necessità di sbarcare in un punto preciso quindi con gli airbag quando si arrivava si rotolavano e poi si sgonfiavano e il veicolo usciva invece con Curiosity siamo davanti alla prima missione dove il veicolo deve arrivare in un punto esatto il gate crater per compiere un'indagine specifica soltanto in quel punto in quel caso hanno anche guidato la sonda non la sonda come si dice la parte che entra nell'atmosfera che contiene il tutto quello era in grado di planare quasi in modo da essere guidato e indrizzarsi verso la zona non era soltanto un sasso che cade ma era comunque capace di avere un controllo per poter scendere in un luogo estremamente specifico esatto infatti ovviamente si sottolineava il fatto che questa era una tecnologia che servirà in futuro per arrivare con l'uomo naturalmente dove si sceglie di arrivare non si può arrivare in un punto qualsiasi ecco poi tu hai conosciuto anche invece chi guida fisicamente le rover vero come si chiama sì c'è un italiano di nuovo ancora Paolo Bellutta esatto Bellutta di Rovereto che lui aveva guidato le prime due e ora sta guidando fa parte del team che guida Curiosity esatto lui è un personaggio è arrivato negli Stati Uniti ha lavorato per il Dipartimento della Difesa per alcune società di informatica poi è entrato il JPL e lì fa il marziano letteralmente è il caso di dirlo perché al mattino quando si alza mi raccontava devi immaginare la sua giornata su Marte perché quando arriva lui con 5-6 altri colleghi americani si riuniscono in una stanza tutta grigia senza finestre e lì progettano la missione quotidiana che deve assolvere ovviamente spirit opportuni di prima e oggi Curiosity e ovviamente danno gli ordini per così dire alla sonda la quale poi realizza il suo piano in maniera abbastanza autonoma quindi tanto che lui ha una targa dove appunto si richiama Marte sappiamo che negli Stati Uniti si possono personalizzare le targhe e lui che è appassionato di viaggi naturalmente diceva che Marte era la sua quotidianità ma è bello andare al JPL anche per interagire con questi personaggi e mi ricordo che in una delle conversazioni sotto gli alberi del JPL lui mi indicava i vari personaggi c'era quello che seguiva Giove quello che seguiva Venere quello che seguiva Saturno insomma era come essere tra extraterrestri perché tutti avevano la loro quotidianità altrove su un altro pianeta del sistema solare esatto via sì è una cosa molto particolare davvero avere la testa su Marte perché devi capire come far andare la rover superare ostacoli problemi vari eccetera sì ecco questo è Polo Bellutta tra accanto alle ruote di Curiosity e Curiosity che naturalmente no qui siamo già oltre questa qui siamo già nell'attualità però perché questo è questo è quello che è stato appena lanciato esatto Insight Insight che per la prima volta va a fare un'esplorazione straordinaria perché riesce a penetrare nel sottosuolo marziano almeno secondo i piani fino a 5 metri di profondità ed è una bella avventura perché quello che vediamo sulle destra è uno strumento che tra l'altro è realizzato in Europa in Germania ed è una sorta di martello pneumatico lungo 40 cm largo 2 cm e mezzo che penetra nel terreno per misurare il calore che viene che emerge verso la superficie ogni 50 cm si ferma e misura la temperatura e dovrebbe arrivare fino appunto a 5 metri di profondità e la si fermerà per controllare di continuo la temperatura a quel livello credo sia stato lanciato il 5 quindi è appena partito e arriverà in novembre su Marte sbarcando su tre gambe come vediamo ed è la struttura è simile ad un'altra sonda americana Phoenix che era arrivata nel polo nord magnifica missione anche quella perché ci portava ai bordi di una calotta polare la quale poi ingigantiva con l'arrivo della stagione invernale tanto da ricoprire completamente Phoenix e c'è una bellissima immagine che ha trasmesso lo stesso Phoenix perché ha fotografato una delle gambe sulle quali c'era la rugiada a dimostrazione di come appunto l'atmosfera fosse ricca di vapore d'acque tanto da depositarsi comunque che ovviamente ci sia stata l'acqua ora è chiarissimo hanno persino visto che credo l'emisfero sud ha più ghiaccio credo sotto terra in fondo perché lo hanno visto tramite un sensore che rivela praticamente idrogeno e quindi se tu vedi dell'idrogeno chiaramente non può essere altro che acqua cioè la controparte ma mentre il polo sud è caratterizzato da ghiaccio di anidride carbonica il polo nord è ricco secondo le indagini e il nord che è più ricco di ghiaccio d'acqua per capirci che è ovviamente alla base di tutto per poter pensare di stare su Marte perché ci fai un sacco di cose aria combustibile ma queste immagini interessanti anche per l'altro strumento che vedete sulla sinistra è che è il primo sismometro portato su Marte il quale farà un lavoro importantissimo perché anche questo tra l'altro è uno strumento europeo quindi i due principali strumenti di questa missione americana sono europei paradossalmente sono europei e si stima almeno il direttore di questo progetto francese ha stimato che un esperto lui ha fatto diverse ricerche anche per quanto riguarda la sismologia lunare oltre che quella marziana e secondo lui ci sono si verificano ogni anno una cinquantina di terremoti su Marte di una magnitudo superiore ai 3.8 della scala Richter quindi terremoti abbastanza significativi che naturalmente hanno un'origine molto diversa dai terremoti terrestri perché Marte non ha le placche come il pianeta Terra e quindi l'origine è ben diversa da quella terrestre però tutto un mondo da studiare in maniera significativa anche per capire soprattutto la struttura interna di Marte che è abbastanza poco conosciuta si ipotizza un nucleo di ferro fuso al centro però tutto il resto della struttura non è ben conosciuto ma non si sa se ci sono magari vulcani attivi non si sono mai visti non penso no però le indagini compiute con le sonde parlano di un'attività vulcanica abbastanza recente in termini di milioni di anni naturalmente non così recente da arrivare sino ad oggi e quindi non si parla più di un Marte morto come si immaginava negli anni passati prima delle esplorazioni delle sonde continuando a offrire un'immagine di Marte sempre più viva oltre che a un'immagine di Marte da record perché Marte è veramente un pianeta straordinario pensate che c'è il più grande canyon del sistema solare la valle marineris così battezzata perché è stata scoperta dalla prima sonda americana che nel 1975 ci ha mandato le prime 22 immagini del pianeta bianco e nero rigorosamente all'epoca un canyon straordinario profondo 10 chilometri appunto è lungo 4000 chilometri poi c'è il più grande vulcano del sistema solare il monte Olympus che ha una base di 600 chilometri un'altezza di 26 chilometri in altezza l'Everest impallidisce di fronte a questo grande vulcano quindi ma al di là di questo si immagina un pianeta tutto sommato abbastanza vivo tanto che secondo alcune immagini trasmesse forse l'acqua in qualche modo continua a zampillare hanno potuto vedere dei cambiamenti proprio nell'arco di alcuni come dire mesi hanno visto che lungo le parti dei crateri che calano alle volte sembra di vedere delle strutture che possono essere state fatte dall'acqua che scorre che è una cosa intricata capire come sia possibile che a un centesimo della pressione ambiente che c'è su Marte rispetto a noi ci sia acqua allo stato liquido e chiaramente si sono visti anche grandi quantità di sali che possono fare sì che l'acqua sia talmente salata da avere la capacità di stare ancora allo stato liquido credo i per per clorati mi pare di ricordare che hanno visto ce n'è una certa quantità e tra l'altro queste sostanze sono per certi particolari batteri sulla terra sono fonte di cibo mentre per altri no ma quindi anche questo può essere una fonte c'è il cibo bisogna vedere se ci sono i batteri certo la vita passata è un'ipotesi sostenuta in maniera passata ma anche forse ma anche appunto e tra l'altro ci portiamo alla prossima impresa europea Mars ExoMars esatto che porterà che era stata cioè che è stata fatta in due versioni cioè due step perché c'era ExoMars 2016 che aveva la sfortunata la sfortunata Schiapparelli appunto che è venuta giù e poi c'è la 20-20 che invece è quella che deve partire e questa credo andrà a cercare eventuali forme di vita Sì lo scopo principale è appunto quello di portare un rover che è europeo e che farà qualcosa che finora i rover americani non sono ancora riusciti a fare a parte questa misura del calore sotterraneo che farà la sonda Insight però ExoMars che dovrebbe partire nel 2020 andrà a scavare con una trivella che è una trivella italiana che nasce qui a Milano a Leonardo lo stanno realizzando e andrà fino a due metri di profondità una trivella complicatissima che è figlia di una trivella molto importante di cui Amalia è la protagonista oltre che l'inventrice quindi è figlia del Politecnico questa anche perché c'è un ingegnere che poi è stato un allievo di Amalia che sta curando questo programma estremamente importante che è una trivella straordinaria è una specie di robot sotterraneo perché non solo andrà a trivellare ma andrà a verificare a indagare mentre scende le condizioni del sottosuolo rivelando prima ancora di portare il campione in superficie da analizzare sul rover le condizioni del sottosuolo quindi è straordinario e qui vediamo l'exo mass con uno spaccato che ci mostra come si scenderà in profondità e in pratica mentre noi facciamo questo gli americani invece hanno appunto Mars 2020 cioè quindi quindi nel 2020 ci saranno due nuove rover si spera su Marte e per qualche motivo non hanno voluto come dire hanno fatto tutto loro gli americani cioè non è una missione in cui praticamente Europa ha contribuito in qualche modo o sbaglio no l'exo mass tra l'altro è importante anche perché è al 40% finanziata dall'Italia dall'agenzia spaziale italiana quindi l'Italia ha sostenuto Marte in una maniera decisa a livello europeo tanto appunto da essere protagonista di primo piano in questa missione però il 2020 sarà un anno fatidico bene ovviamente per l'esplorazione marziana perché come tu citavi oltre alla missione europea c'è la missione americana Mars 2020 ma non solo ci saranno tante altre missioni ci saranno i cinesi che arriveranno ci saranno persino gli emirati arabi che hanno appena costituito da poco tempo una agenzia spaziale e la prima impresa spaziale che fanno è addirittura verso Marte questo per dirvi come Marte sia straordinario nel trascinare anche l'impegno politico se vogliamo tanto che questa missione degli emirati arabi è stata battezzata o speranza proprio per come loro dicono servire da stimolo ai giovani del paese a guardare verso lo spazio verso Marte in particolare per trascinare verso un futuro che deve coinvolgere il paese al di là della scienza quindi al di là con la politica soprattutto tra credo l'altro c'è anche India che ha mandato in orbita attorno a Marte mi pare vero? con un costo che è una frazione di quello delle sonde americane ma credo una cifra forse di un fattore 10 di meno ma sono stati molto molto bravi sì l'equivalente in dollari appunto è molto basso loro dicono un decimo degli americani però ovviamente bisogna tener conto della realtà in cui queste sonde vengono realizzate che è molto diversa da quella europea e da quella americana però è interessante vedere come anche un paese come l'India si è impegnata infatti anche loro stanno realizzando una seconda sonda che andrà intorno a Marte dovrebbe partire nel 2022 ma ci sono pure i giapponesi che stanno lavorando per quegli anni loro però intendono sbarcare su Fobos per studiare Marte da distanza ravvicinata riprendendo un po' il piano che era stato dei sovietici negli anni 80 quindi qui vediamo una mappa di Marte con i possibili luoghi di sbarco di Exumas oltre agli altri luoghi nei quali sono arrivate le varie sonde tenendo conto che soprattutto nella fascia equatoriale si è concentrata l'esplorazione anche perché dal 1976 quando sono sbarcate le due sonde Viking della NASA la fascia equatoriale ha delle condizioni ambientali molto più favorevoli rispetto alle latitudini più estreme tant'è che nei momenti migliori con la stagione favorevole si arriva ad avere una temperatura all'equatore che tocca i 27 gradi centigradi quindi una condizione estremamente positiva anche per la famosa ricerca della vita che si va a cercare mentre invece la temperatura minima arriva a 140 gradi sotto zero quindi condizioni estreme però se la vita è passata o presente è da ricercare nelle profondità questo problema della superficie marziana con una temperatura difficile ma soprattutto con una condizione spazzata dalle radizioni cosmiche che rende impossibile la vita in superficie oggi quindi il sottosuolo è l'ambiente favorevole per cercare dei microorganismi come si pensa possano esistere questa è la sonda cinese che stanno preparando che è una sonda che sbarcherà portando un rover anch'esso e muovendosi in superficie per cercare è una tecnologia derivata dalle sonde cianji quelle sulla luna che hanno portato sulla luna e che si apprestano a ritornare ovviamente sulla luna cercando addirittura uno sbarco nella faccia nascosta del nostro satellite ma questa è un'altra storia questo è il rover che dovrebbe arrivare che è appunto molto simile un po' agli spirit e opportunity marziani ma io vorrei collegarmi proprio a spirit perché quando ho seguito lo sbarco al JPL in quei giorni il presidente Bush figlio aveva lanciato il famoso programma constellation che prevedeva il ritorno sulla luna degli americani e poi con una tappa successiva che riguardava lo sbarco su Marte e da allora infatti si cominciava a lavorare al piano che doveva portare gli uomini sul pianeta rosso ovviamente dando il via ai mezzi che erano necessari per arrivare e quindi ad una nuova astronave che sarebbe stata battezzata Orion e al nuovo vettore lo Space Launch System capace di portare in orbita addirittura 130 tonnellate quindi molto più capace del Saturno 5 che ha portato gli astronauti americani sulla luna poi la storia ovviamente politica cambia arriva Obama alla Casa Bianca e nella migliore tradizione politica si cancella quello che ha fatto il predecessore compreso appunto il programma constellation e si innesca una guerra è proprio quasi il caso di usare questo termine tra Obama e il il congresso americano che era controllato dai repubblicani i quali di fatto riescono a recuperare il programma del vettore e della capsula dell'astronave Orion perché così è il caso di battezzarla e quindi questo programma riesce a sopravvivere nonostante i tagli di Obama tanto da arrivare ad oggi e consentire alla Presidente Trump di confermare nonostante tutto il piano che Obama ha avuto il merito bisogna riconoscerlo di approvare per quanto riguarda la strategia della NASA nel 2015 approva questo piano giorno e tu Mars che va a cadenzare tutta una serie di passi per arrivare a metà degli anni 30 di questo secolo a portare l'uomo su Marte ovviamente utilizzando tutte le tecnologie che fra il tempo sviluppate compreso il lanciatore e l'astronave ci pensavano al fatto che dunque noi siamo in una cosiddetta società aperta come sono appunto gli stati uniti in cui quando cambia il capo in testa può cambiare tutto tutte le cose che erano state scelte decise possono essere sovvertite e tutto questo fa parte delle regole del gioco invece la Cina quando decide qualcosa è quello cioè non puoi più sfuggire da quella cosa lì e da questo punto di vista è una potenza in questo senso perché una volta che è definito l'indrizzo non c'è nulla da fare quello è e quindi sono delle società diverse come tutte le cose hanno pro e contro è ovvio che però c'è questo aspetto cos'è questa questa è la sonda degli emirati arabi che stanno preparando naturalmente gli emirati arabi non avevano ingegneri all'altezza di una missione del genere e quindi hanno ingaggiato scienziati stranieri fra virgolette cioè collaborazioni con vari paesi tra l'altro anche l'agenzia spaziale italiana è stata coinvolta in questa operazione però ecco ora siamo a giorni to mars che appunto Obama ha lanciato e Trump per fortuna ha confermato e proprio l'altro giorno il nuovo amministratore della NASA Brindstein ha sottolineato nell'approvare nel presentare il nuovo bilancio della NASA per il prossimo anno che è arrivato alla modica cifra di 21,5 miliardi di dollari ha confermato che nonostante Trump abbia rivisto questo piano e abbia inserito come tappe intermedie il ritorno sulla Luna degli astronauti americani però ha salvaguardato l'impegno marziano e lo ha sottolineato il nuovo amministratore della NASA mettendo bene in evidenza sostenendo che ha garantito un finanziamento di 500 milioni di dollari per la stazione spaziale che si andrà a costruire intorno alla Luna e che servirà come altre cose a preparare il balzo successivo verso Marte quindi c'è una strategia che la NASA materialmente va a sostenere in maniera significativa e in questo piano il piano appunto il progetto di Trump di ritornare con gli astronauti sulla Luna va a sostituire l'idea di Obama che invece voleva che in questo intermezzo ci fosse la cattura di un asteroide che doveva essere portato intorno alla Luna imbrigliato da una sonda automatica però su questo asteroide dovevano sbarcare gli astronauti americani per far pratica per così dire nelle operazioni necessarie che poi avrebbero sarebbero state necessarie sia per la Luna che per l'arrivo successivamente su Marte quindi questa immagine evolutiva viene oggi salvata con questa variazione significativa dello sbarco dell'uomo di nuovo sulla Luna ovviamente se vogliono tornare ancora una volta sulla appunto Luna è perché ci sono anche i russi e i cinesi che ci vogliono andare quindi non si può essere da meno siamo un po' di nuovo nell'ottica della gara infatti siamo di nuovo è forse l'unico modo di far fare le cose alla fine sembrerebbe certo ma con una logica molto diversa perché è vero sia la Russia che la Cina che il Giappone e anche l'India hanno fatto della Luna la strategia di base dell'esplorazione sia automatica che umana però appunto Trump non poteva permettere che sventolasse queste bandiere prima ancora di quella americana e quindi c'è di nuovo una gara per arrivare primi lassù però quello che è interessante è quello che sottolineava prima il direttore e cioè che tutto questo sta mettendo in moto una logica completamente diversa perché è vero che c'è una strategia di Mosca di Washington di Pechino con queste mete però la Luna è diventata oggi un esercizio anche di collaborazione internazionale sempre più interessante che deve concretizzarsi nell'operazione Marte in definitiva che deve essere un'operazione dell'umanità non solo ma questa è la prima logica di base politica estremamente importante ma su questa va ad innestarsi un altro principio fondamentale innovativo e che riguarda una collaborazione diversa tra pubblico e privato che sta diventando sempre di più la base della strategia spaziale perché che si voglia o meno questo primo mezzo secolo questi 50 anni di esplorazione spaziale sono stati un esercizio straordinario da parte delle agenzie per mettere a fuoco per sviluppare le tecnologie di base ma anche se si vuole dei metodi che pure queste oggi devono cambiare perché non è pensabile che le agenzie spaziali abbiano quel ruolo che hanno avuto finora le agenzie dovranno essere sempre di più lo strumento per sviluppare tecnologie d'avanguardia ma anche lo strumento di strategia politica che devono portare il politico e il mondo privato ad una logica diversa perché lo sviluppo di queste tecnologie d'avanguardia devono essere anche il modo per sviluppare tecnologie con ricadute terrestri quindi deve essere il traino lo spazio e questa meta della luna e di marte per sviluppare tutto un mondo tecnologico che ha a che fare con la vita quotidiana quindi è una rivoluzione questa rivoluzione se ci pensiamo è stata innescata dal piano lunare però la luna era il frutto di una strategia militare dove si confrontava Mosca e Washington per ristabilire una supremazia perduta da parte di Washington e l'America non poteva tollerare il decadimento sulla scena politica economica e militare internazionale per cui John Kennedy nel 1961 ha stabilito che l'America doveva investire tutto quello che poteva in cervelli e in denari e in dollari per ritornare ad essere il punto di riferimento planetario pensate che in quegli anni l'America investiva il 6% del bilancio annuale per la luna che era una cifra straordinaria paragonata in termini odierni il piano lunare costato 140 miliardi di dollari una cifra paurosa quindi però da parte americana c'era il ripristino appunto di una supremazia perduta però indubbiamente questo sforzo è stato fondamentale per soprattutto le ricadute che lo sforzo avrebbe comportato quindi è una cosa importantissima tanto che innescava un processo di supremazia che si è mantenuto sempre con quest'ottica della difesa che per l'America è sempre un paradigma di base se vogliamo perché anche il programma delle guerre stellari seguiva la stessa logica ed è servito a Reagan a ristabilire cioè non a ristabilire in questo caso a far crollare assieme a tutta una serie di altre strategie politiche l'impero sovietico e quindi non hanno potuto competere assolutamente l'unione sovietica era già in condizioni economiche di estrema crisi Gorbaciov ha dovuto investire notevoli somme nella difesa e questo sforzo ha portato al fallimento del piano quindi oggi si sono affacciati questi nuovi imprenditori per la prima volta perché non era mai capitato e quindi Elon Musk e Jeff 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 Bezos Bezos però esatto che soprattutto appunto Musk ha questa visione lui vuole assolutamente far diventare la nostra razza una razza multiplanetaria e quindi lui ha cominciato lui ha creato Paypal poi l'ha venduta per un miliardo e poi quel miliardo anziché goderselo lo ha usato per fare razzi e aveva già in mente tutta una strategia per riuscire un giorno a mandare l'uomo su Marte cominciando a fare razzi cominciando a vendere i lanci a chi ha appunto opportunità di lancio per satelliti eccetera ed è stato il primo a poter far tornare indietro cioè a essere ha fatto vedere che è possibile far tornare indietro i primi stadi dei missili e quindi di abbattere i costi in maniera sostanziale perché un lancio attuale di un suo missile costa intorno ai 60 appunto milioni più o meno mentre i concorrenti diretti americani che sono sempre vissuti in una bolla se vogliamo così dire perché erano solo loro e non c'era competizione potevano fare i prezzi che volevano in qualche modo sono non so un lancio della ULA credo si chiami la United Alliance mi pare insomma costa qualcosa come 300 400 milioni di dollari contro 60 cioè sono completamente fuori e quindi lui ora riesce a essere il numero uno e lo sarà ancora di più in futuro e lui ha questa visione che vuole costruire un mega razzo che chiama il Big Falcon Rocket BFR che sarà in grado di portare un centinaio di persone sì perché Elon Musk è il primo personaggio di cui avete sentito parlare che è diventato personaggio oltre che per le sue capacità imprenditoriali indiscusse perché come sappiamo oltre a SpaceX ha fondato Tesla una società per produrre pannelli solari e così via ma lui ha innovato è entrato in maniera significativa nel mondo spaziale sostenendo che i privati e criticando aspramente anche la NASA che i privati sono in grado di fare quello che la NASA negli ultimi decenni non è riuscita a fare perché in effetti è rimasta paralizzata nel dopo luna in una maniera straordinaria negativamente parlando non riuscendo a portare quella visione che aveva avuto in passato con la luna sia pure per ragioni legate alla difesa e Musk ha offerto e questa è la base della sua popolarità una nuova visione tant'è che nelle sue visioni ha proposto appunto questi progetti fantastici di Marte e qui vediamo il nuovo gigantesco razzo che dovrebbe portare appunto decine decine di abitanti perché lui immagina di andare sul pianeta rosso per creare delle vere e proprie città tant'è che è andato ben oltre il razzo e ha immaginato qui abbiamo l'idea in questo video della città da un milione di abitanti che lui vorrebbe creare grazie al via vai di questi grandi razzi quindi la città su Marte è il suo sogno però lui sostiene in queste proposte lui è un personaggio estremamente concreto oltre ad aver rivoluzionato anche i sistemi di produzione perché se voi andate nella sua fabbrica SpaceX che ha creato in un era un vecchio insediamento della Boeing dove fabbricava fusoliere di aeroplani lui l'ha comprato e ha concentrato in questo edificio dove che ho visitato dove ho avuto anche l'avventura di incontrare lui ha concentrato tutto quello che era necessario per fabbricare un un razzo quindi l'astronave i motori vedete tutto lì e non a caso lui è un appassionato di Werner von Braun quando voi entrate sulla sinistra c'è l'auditorium e sulla porta d'ingresso c'è una targhetta sala Werner von Braun lui ha immaginato di fatto la sua fabbrica come era Pinemund di von Braun dove tutto si faceva e altrettanto ha organizzato la sua produzione in questo modo però in questo modo ha anche tagliato pesantemente i costi e gestisce ogni dettaglio della produzione naturalmente lui è un campione sotto diversi aspetti naturalmente ha anche qualche pecca perché non è che sia è un campione per diversi aspetti ma è anche molto criticato perché c'è un turnover nella sua fabbrica abbastanza elevato perché ci sono moltissimi giovani che vanno a lavorare fantasticamente coinvolti dalla sua visione ma dopo qualche anno se ne vanno ricchi anche dell'esperienza che accumulano in questo ambiente quindi è un'ottima scuola di futuro io sono sempre molto colpito da questi imprenditori cioè voglio dire lui quando ha cominciato non sapeva nulla di astronautica immagino però ha saputo circondarsi delle persone giuste cioè devi saper scegliere le persone giuste no? perché tu ovviamente non puoi sapere tutto alle volte mi sono chiesto ma quando Ryanair ha tirato fuori l'idea di avere dei voli low cost non era un pilota non era come diavolo ha fatto no? e come ha fatto appunto lo stesso Musk essere imprenditore è una forma mentis molto particolare a quel tipo di come dire livello no? perché è un qualcosa tu hai una visione e sai soprattutto circondarti delle persone giuste ma c'è un aspetto interessante che si mette in evidenza di questi imprenditori che oggi entrano sono entrati pesantemente sulla scena produttiva dello spazio ci sono questi tre personaggi appunto Musk Bezos e Bigelow che sta costruendo dei moduli gonfiabili che sono tre personaggi che hanno sognato da giovani l'esplorazione spaziale e hanno costruito si sono dati i mezzi finanziari adeguati per realizzarla adesso quindi sono passati dal sogno della gioventù alla realizzazione pratica in età avanzata anche perché a parte Musk che è più giovane dei tre gli altri due sono abbastanza più avanti negli anni però appunto hanno materializzato questo sogno innescando un procedimento completamente diverso perché lo stesso Musk e lo stesso Trump nel valorare il piano lunare e marziano sostiene e sottolinea che il futuro dello spazio deve essere fatto in sintonia e in stretta collaborazione tra pubblico e privato come accennavo prima quindi rivoluzionando l'approccio dello spazio anche perché vuole che la NASA sia uno strumento di esplorazione veramente del futuro delle tecnologie che oggi non si riescono ad immaginare e che sono legate soprattutto all'innovazione alle nuove idee che la NASA deve esplorare anche attraverso un rapporto per esempio molto più stretto con le università mobilitando attraverso le sue iniziative le idee giovanili perché il futuro è legato a un'innovazione nelle idee oltre che ai sistemi produttivi e questo non possono che derivare da un modo diverso anche di organizzare l'esplorazione sì è vero ecco quindi mi sembra più o meno abbiamo fatto tutto il passaggio diciamo tutto ciò che sì e questa è la slide che hanno presentato l'altro giorno sottolineando la nuova strategia della NASA che vede al centro la luna ma per balzare verso Marte con il nuovo la nuovo programma che Trump ha sottolineato essere vivo e assolutamente sostenuto va bene allora molte grazie grazie a tutti voi e buon viaggio nello spazio con Marco grazie a tutti 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 grazie a tutti